e' attirato con la roba io ho sbagliato io per cambiare l'arma c'ho il tasto l l1 è il tasto più migliore per cambiare dove andiamo raga? facciamo? andiamo a farci load out? Quanto costa? 20.000? 20 20 1.000 ci saranno ancora 2.50 ci saranno ah 1.000 no 2.50 qui andiamo adesso ci vediamo un posto andiamo 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 saranno risotto quelli li eh e' tranquillo eccolo dai ci siete raga dov'è? vabbè noi ce lo prendiamo noi dai chi e' il giallo? fuoco dove è? dai quella si ci sei per dopo vamonos no io non ho 200 euro 20 euro proprio scarse ok giochiamo di nuovo con il mio scendono eh scendono qua a load out scendono a load out tutti tranquillo che già ce la facciamo con un bel coltello e lo becco bene dove? lo dao ci sono no è che ho sentito vari pensavo fosse un quadro odio si sono un quadro noi dai saliamo sul tetto raga Uav nemico attivo A terra Fatto 1 Andatemi un cecchino con questo il mondo Dove siete ragazzi sopra Uav nemico in volo Sono preso il volto io Oh madonna due team là Dimmi la giusta non venendo Alicottero? No Eccola Cioè in 30 colpi l'ho preso due volte Ma dai E li sono saliti Vabbè lasciateli andare Vabbè lasciateli andare Uav nemico in zona Vado a prendermi il cecco dai Oh sono caduto sotto Ma dove suona raga? Oh ragazzi abbiamo un'altra casa di munizioni Per caso Dicelo io Ma la puoi buttare che io ce lo so Però sali su sali su così la prendono tutti Eh Oh dove è la mia arma? Dove è la mia arma? Cazzo Dai vieni Ragazzi sono questo po' da solo io Ecco Non è mortaio Ah mi piede Da qua pingano pure Da là Dove? Da qua Vado qui Se mi butti Se mi butti Il cosi Io Potrò Vieni le munizioni qua Ah l'ho visto l'ho visto l'ho visto dove? Dove? Dove pinga? Aspetta aspetta lasciami piastrare dai Allora Sono pingate allora E sta pingando a me Oh Vai Oh ma come? Eh lo so è dentro Lo vado a fare per conto mio Mi vado a ritare fuori Ero dentro qua all'edificio E sono morto lo stesso Craccato 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 malissimo Raga Qua uno Oh fuco Dammi un cortottino Grazie È morto È morto È morto È una bella frase È un cortottino Focco mio goloso Allora Secondo me Quanto prima che arrivano tutte le parti Sbuccariano No aspetta Che cioio delle mille Vai tranquillamente No al tetto Non ci sta L'ha visto che è sul tetto Te l'ho detto Che non era un bel posto Minchia In quanto non ne facciamo uno Arrivano 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 Mi pingano Mi pingano Mi pingano Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Eh non lo so Mi pingava col cane Col cane? Salvi attivi Sì Da giù Prima Uavv nemico in zona Uavv nemico in volo Uavv nemico attivo Sì Siamo sgamati Eh direi giusto un po' Sono qua sotto eh Marco un nemico Sì Aspetta che Provo a cittimare E lui non possono salire Oh da qua Uavv nemico in volo Oh sì Oh ciò Mi hanno peccato Sì Ritorno sta per finire Mi raccomando Mi raccomando Oddio Ma da dove? Sempre da lì sono Sopra lì Sotto Sotto UAV nemico in volo, evita nemica! Ho un colpo lui! E l'ho cliccato uno Abbiamo un cerchino lì eh! Dov'è? Di rosso Aspetta No! Come ho fatto a non beccarlo? A terra, a terra, a terra, a terra Bravo, 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 tranquilo Da dietro non ci possono prendere o ha messo delle mie... Se così si restano eh, se non pusciamo... Cioè ne abbiamo messi due, però uno ha creccato e stiamo qua ad aspettare cosa Scusatemi, ma... Io, io non posso andare ragazzi, io c'ho un cerchino e un... A cosa c'entra? Anche io c'ho un cerchino ma si puscia, abbiamo due armi eh Eh vada vada! Adesso fai, come focumino, no? Andiamo a pusciarli? Andiamo adesso Cioè... Piano piano piano, raga, piano Attate che c'è gas, arrivano, arrivano, arrivano i polli Eh infatti, infatti, infatti... Oh e salì! C'è bloccato! In volo! Non è strulito Fatto uno... Un due... Un due... Un due... Un due, un due... Un due... Un due, un due... dietro ma dove ho sentito il cane ma tu eri con il cane e io con il cane dietro il muretto la venga venga qua questa parte no ma vestito con la macchina no 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 ma vaffa vieni Faku ti ho restato grazie guarda tu giù c'è gente se mi prendo le armi perché no è che non è sempre dammela un colpo ma non si è aperto paracadute ma da dove? no non si è aperto paracadute oddio perchè mi hanno detto a me l'ho a kill? vabbè andiamo ragazzi laggiù c'è gente ragazzi maggiorissimo aiutino mi servo a me dai che mangio dai sono qua da solo ok uno dei due è morto uno dei due è morto l'altro l'altro è sopra eh la madonna eh la madonna uno che mi cura fuoco 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 ma dai fuoco 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 ma parco io sto giocando ma che cazzo mi dici Luigi lasciami giocare per favore perché devo mirare che ce l'ho a un metro se io miro il cerchio il ratio di colpi diventa più fine e smiri quando è così non devi mai mirare regola numero uno cazzo perché te immagina quando spari quando spari Luigi fai un cerchio capito se te non miri no e spari nip fire si chiama Gigi, te hai più probabilità di prenderlo, hai capito? si da vicino, non è che devi mirare Luigi hai capito il discorso? si si ho capito ok, top poi sai che quando rimango non bisogna mai dirmi niente perché mi agito poi questo è un futuro god è forte hai meno probabilità di prenderlo, hai capito? c'è te try harder grazie a te Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Incollati, incollati. Incoglionati. Seba, come si... Incollati, mi raccomando, eh. Forza. Come si chiama il secondo dito, Seba? Il secondo dito è quello che ti controllavano gli emorroidi. Che ridere. Saremo anche scarsi. Saremo anche scarsi, ma quanto ci... Oh, guarda, io in geografia non lo so, in geografia non mi interessa. No. No, sulla chiesa, cazzo. Oh, no. Andiamo sotto il tunnel, subito. Cosa, se moriamo, su? Vediamo, fratello. Le va all'attimismo. Io non capisco l'armare. Davvero? Ah, davvero. Ah, davvero. Ci sono uno. Siamo che ho ucciso. Poverino quello. Non se lo aspettavo mai. Oh, sotto il tunnel, raga. Sotto il tunnel. Sotto il tunnel. Vediamo, vediamo. Sotto il tunnel. Vediamo. Il saschifo. Andatevi quella 5 stelle, vai. Luigi, invece di sparare, stronzate. Impegnati. Andiamo. Tranquil, non lo starma. tutti e adesso muoio il primo che troviamo siamo qua andiamo andiamo non c'abbiamo niente forza dove vuoi andare tu va al punto viola ah al punto viola ma non ci stai andando ma ci stanno mi stanno già cecchinando allora vieni a dentro casa penso non sia stato giustato ma voi stanno già su vieni luigi sali su luigi un attimo un attimo un attimo ragazzi abbiamo quasi soldi per il loadout oh ma che cavolo che in centro ogni tanto qua facciamo il loadout ragazzi e aspetta piano piano lo shop è qua sotto anzi aspetta 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 cosa facciamo guarda seba guarda abbiamo il nostro shop qua ah bella però però rompilo appena arrivo qua vicino che vuol dire rompilo cioè spara il drone ma che cavolo oddio da dove è ma io non l'ho visto proprio nooo aspetta foco ci sono io ci stiamo animando uccidio 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 sono finiti oddio 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 non me lo aspettavo mai ok ragazzi quindi non sto dietro un pochino di soldi per farlo da un ragazzo di soldi 4 4 4 4 ok se si è bloccato mamma per te mi mettete mille se ne avete e quando ti diamo oddio stavolta piano lei da qua da qua da qua ma come ha fatto oh no è un ansio oh in quattro di circondare dai 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 fammi andare via qui ci vedi sei solo eh buttati buttati 4 3 2 dai però sto qua qui sono risaliti sono cazzo sono tutti lì a camperare sono guardali guardali e beh c'è l'odio nostro amica so scegli guardali tutti c'è con l'altro andiamo con l'altro no no aspetta ce li facciamo aspetta no 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 anche se la giornale è fortissimo c'è il gas nooo sto caduto ma che ho preso il muro fra te c'è il gas non ci credo che muoia nel gas no 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 oh 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 io sto facendo già lì guardi questo atto oh la piccato orca miseria c'è un culo così per fare il loadout e tutto eeeh cazzo e poi sto qua da dietro col cecchino camperandomi una vita infatti è una bella grande la vita però poi il loadout si può prendere? eh poco eh no è il camperato no 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 scendiamo all'oddy? preparati stai per rientrare no 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 da dove scendi scendi è pieno oddio andiamocene dalla lava no ma vabbè sto qua pure quelle qui camperandomi oh no che arriva da me raga per favore sto arrivando tranquillo ok grazie ce li hai di fronte ce li hai dove ce le fumogeno lì è pieno attenzione su cui proprio qui di fronte ce l'abbiamo pulizioni come sembra occhio occhio orco ma che ma come è arrivato veloce così dice benji da andare eh ma io non so come fanno oh no no nemmeno il tempo di vederlo ero già morto eh luigi piastra luigi piastra luigi piastra ah si si scusa si grazie ah qua ancora c'è uno oh stai sempre a guardare eh orco nemico distrutto i suoi amici sono marcati sulla mappa tattica nooo sono in due occhio occhio stai arrivando occhio occhio sempre lo stesso team lì passamoli da sotto chi è con me? fuoco che nessuno raga in queste case dobbiamo quando scappiamo dobbiamo fermarci in un piano a caso eeeh aspettarli lì c'è gas c'è gas c'è gas ragazzi via le coglioni va eeeh ma tu pensiamo che eri tu un uomo dietro pensavo che fossi tu qua 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 luigi 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 parco dio dai non c'ho la manco macchera se da solo nasconditi camper luigi 3 2 1 fammi fare fammi fare oh fai fai che trovi è in aria ahahahahah ahahah ok è morto muo ahahah 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 dove andiamo? oh ma che cavolo volete? stiamo a uccidere il gioco è così no no non vuoi no no non vuoi tranquillo i miei amici da aaaaa da snaccio e io quale prendevo? c'è qualcuno su eh c'è qualcuno su ma occhio qua occhio qua audio ca e lo foco mi hai poso fuori datemi una botta se avete una smoke se ba se ba Stanno venendo ragazzi, stanno venendo Lascio sicurare Copri fuoco Ah due Non ha munizioni, non ha munizioni, c'ho 6, ci colpi Eh buon per te Atterra 1 Atterra 1 con la Colpo a segno Ah loro c'hanno il loading mi sa Eh beh come minimo Ah ma c'è qualcuno che è un hacker Guarda questa arma che è nera C'è qualcuno che Imbroglia, queste scendono direttamente Con l'arma Eh no, non è un'arma Nera, è normale Si può mettere sul nero Ragazzi qualcuno ha delle piastre Piastre? No, non ne ho Io ne ho due Tenga Per lei Ah, sa cosa abbiamo eh? Dove siete? Sotto ci abbiamo, sotto 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 Oh la sciopa portatile Oh la sciopa portatile Lancia una granata Crecato hai, crecato dai Già fai, già fai Benji Eh si, però non è che c'era una mina C'era una mina, venite qua Finitevelo C'era una mina, che cazzo devo farci Ma come non muore? Ma io non ho capito che gli devo sparare L'unica mina non cosa io gli ho fatto Che subito Qua, mi hanno ucciso Oh, a uno gli ha sparato Questo, con l'iso, mi ha distrutto E io, cavolo, con le tappe La terra, con la terra Non ho fatto niente Comunque mi sa che l'iso l'hanno potenziato Arriva l'altro, l'altro, l'altro Ho marcato gli altri operatori di quella squadra Stagniamoli Dai, l'altro avuncio, ehm Fai, l'altro avuncio, l'altro avuncio Tranquillo Eh non ho piace Eh vabbè, ce la fai, ce la fai C'è una copertura buona, cioè Cavolo, sti scontri mi sono... Si, è uno stress questa partita E infatti Oh no Siamo piatti, mi servono, cassa E anche me Ah, aspetta che vedo io Eh, non solo voi raga Per me basta Basta avere un'arma Eh, mi serve per un'arma Si ce n'è una No, non è solo un cecchino No, un cecchino, eh Non va bene Non è solo un cecchino, c'è pure questa Ah, ok Eh, ma è senza munizioni, che che la voglio Oh, quali le munizioni? Oh Dai le munizioni, prendetele Oh, va bene, va bene Oh, va bene Ma Dai Ragazzi andiamo in safe, per favore Ragazzi, c'è uno siege Andiamo in safe No Oh 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 ma io ora andrei a raga no già non avevo piaciuto vengi non morirmi vengi non morirmi davanti perché avevi girato a destra invece di sinistra ma perchè sei tu l'unico di anche andato a sinistra ma se va non ce l'ha mica detto cacchio penso pinga ma è pinga diccelo non ti arrabbiare dai eh se non ci dici niente te ne vai sei tu che sbagliato siamo noi in tre a destra e una a sinistra scusa sempre colpa nostra no in realtà eravamo noi che abbiamo aspetta che ci abbiamo ci abbiamo gente qua eh che bolli salutiamo andiamo ragazzi andiamo a salutarli ci abbiamo altre munizioni attività nemica va davanti uno no 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 uccido lo uccido ma che cavolo c'è l'altro no no eri te che c'è c'è un altro eh c'è un altro qua siamo in tre siamo in tre siamo in tre noi servono munizioni di di pistoletto pari carica ok perfetto li butto una esca ragazzi la mia riesca eh non sono i veri spari tranquilli datemi colpi per pistola ehi come dove sono sopra non sono spari veri sono della bomba si si prendiamo il terzo dai c'è la sezza eh piano 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 bene non abbiamo neanche la maschera abbiamo cazzo eh io ce l'ho uno ce l'ho la maschera io c'ho una tacca di maschera se non mi sale mo io ah ci sono dentro da là eh la madonna eh la madonna sto qua da dove quello lì mi dovrà proprio trovare a me proprio a me ok avanziamo andiamo già sinistra verso la safe ah da qua da qua qua dove poco qua questa è morta restate restate a luigi il gas è sempre più vicino a posto ah non c'è l'han tolto ho provveduto io a posto dove è lo shop eh bu io ho il bengala col bengala l'ho ah oh che cavolo qui c'è un potenziamento qui c'è un potenziamento da campo a sigo non è che spagate raga da sopra da sopra e poi proprio a me proprio a me granata partita granata partita no 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 da dietro dai sopra sul tetto sono che eh ah da dietro è arrivato sotto all'angolino dove sono morto io eh eh è il meglio di ieri beh non è difficile ah 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 Sì